Il campionato 2012-2013 di divisione nazionale A non si ferma, ma anzi presenta il suo quarto turno intrasettimanale. L'avversaria di turno è la Bauer Matera, seconda forza del campionato, che domani sera alle 20.30 proverà a sbancare il Pallatagliate, forte dei suoi 28 punti in classifica, ma soprattutto di un organico che giornata dopo giornata è sempre più convinto ed affiatato. Nei Lucani spicca su tutti Carlos Sebastian Vico, playmaker capace di rappresentare una minaccia sia da un punto di vista offensivo con oltre 13 punti di media gara, che come distributore di palloni per armare le mani dei compagni, soprattutto dalla lunga distanza. Matera, che nel palcoscenico della DNA, è una delle squadre che ottiene il maggior numero di punti dall'arco dei 6 e 75, seconda solo alla benacquista latina, ma soprattutto alla formazione che tira dall'arco con la migliore percentuale dell'intero campionato, il 39% su 23 tentativi a partita. Fermare la vena realizzativa dei tiratori materani sarà l'arduo compito della difesa biancorossa, che all'andata concesse il 41% al palasassi, partita peraltro viziata da alcune decisioni arbitrali molto dubbie nel quarto decisivo, che fecero imbufalire la dirigenza e cantera non pagare dazio da tre punti contenendo il numero di rimbalzi offensivi, il diktat in casa lucchese, nella speranza di recuperare in ex temis Riccardo Casagrande, ancora alle prese con la forte contusione rimediata contro Chieti, perché la marcatura di Vitali, giocatore simile per caratteristiche fisiche a Potti, autore del back finale a Latina, sarà l'altra chiave di un match da vivere intensamente. L'ultimo dubbio in casa biancorossa sarà la condizione di Banti, visto già a discreti livelli nella sfortunata trasferta pontina, ma dal quale si necessiterà di un minutaggio più ampio. Tante incognite, una sola certezza, i ragazzi di Russo metteranno sul perché ancora una volta ogni stilla di sudore per cercare di riprettire dopo gli ultimi due stop.